Un regista visionario. L'ultima creazione del più grande maestro d'animazione. Candidato all'Oscar. Finalmente al cinema, per un evento imperdibile. L'Oscar. Si alza il vento di Ayao Miyazaki al cinema. Nuovi rumori ad Hollywood attorno al regista Joss Whedon. Voci lo vorrebbero tornare a dirigere The Avengers 3. A questo riguardo però non ci sono conferme. Anzi, sembra che Marvel voglia affidare al regista James Gunn il franchise. Gunn, regista dei Guardiani della Galassia, però sarebbe anche impegnato nel sequel di quest'ultimo film. No, è davvero improbabile secondo me che sarà lui a fare entrambe le cose. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti qui sotto. E io vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti.